La tovaglia di Giovanni Pascoli è un'altra poesia che appartiene ai canti di Castelvecchio. Ecco, qui vedete, abbiamo messo, diciamo, come sfondo, una immagine tratta dalla casa-museo di Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga. Ecco, quindi possiamo immaginare questo tavolo, insomma, e su questo tavolo la tovaglia. A dire la verità, però, effettivamente questa storia e questa poesia non è ambientata in Garfagnana, dove c'è la casa di Castelvecchio di Barga, ma è ambientata in Romagna, perché fa riferimento all'infanzia della sorella, la sorella di Pascoli. Quando si parla della sorella di Pascoli, il 95% delle volte ci si riferisce a Maria, detta Mariù. Ho proprio l'occasione, la lettura di questa poesia, per capire l'importanza delle credenze, delle superstizioni popolari nell'immaginario pascoliano. Esiste quindi il fanciullino del poeta, il fanciullino dell'uomo singolo, se vogliamo, ma esiste anche una sorta di fanciullino collettivo, così l'ha chiamato qualche critico, no? Cioè, questa ingenuità con cui si osserva la realtà, che fa parte non solo di un vissuto personale, ma fa parte anche di un vissuto della collettività. Lui se la prendeva tantissimo con la scienza, perché la scienza, il positivismo, eccetera, non erano riusciti comunque a risolvere tutti gli interrogativi dell'uomo, ma avevano tolto loro il fascino, l'incanto della superstizione, della religione, no? E quindi lui vuole recuperare questo fascino, questo incanto, perché comunque gli dà la possibilità di affrontare il mistero, tutto quello che la scienza invece non è capace di, dicevamo, di osservare, di guardare con quello sguardo incantato, appunto, dicevamo, del fanciullino. Ecco, iniziamo a leggere, prima dobbiamo leggere la colonna a sinistra, e poi la colonna a destra, anzi facciamo così, facciamo quella volta scorsa, che leggiamo tutta quanta la poesia e poi, come dire, la commentiamo, la parafrasiamo, perché così intanto ci lasciamo trasportare anche noi dall'incanto di queste storie. Andiamo anche noi alla scoperta dell'antica cultura contadina, insieme con Giovanni Pascoli, anche noi assistiamo ad un'epifania. Voi che studiate l'inglese sicuramente avrete sentito questa espressione riguardo a James Joyce. Ecco, queste sono invece le epifanie pascoliane, no? Queste scoperte e queste illuminazioni improvvise, no? che vengono da un passato, però, ancestrale. Le dicevano, bambina, che tu non lasci mai stesa dalla sera alla mattina, ma porta dove l'hai presa la tovaglia bianca appena che è terminata la cena. Bada che vengono i morti, i tristi, i pallidi morti. Entrano, ansi manomuti, ognuno è tanto mai stanco, e si fermano seduti la notte attorno a quel bianco. Stanno lì sino al domani, col capo tra le due mani, senza che nulla si senta sotto la lampada spenta. È già grande la bambina. La casa regge e lavora, fa il bucato e la cucina. Fa tutto al modo dall'ora. Pensa a tutto, ma non pensa a sparecchiare la mensa. Lascia che vengano i morti, i buoni, i poveri morti. Oh, la notte nera, nera di vento, d'acqua, di neve. Lascia che entrino da sera col loro anelito lieve, che alla mensa, torno, torno, riposino fino al giorno, cercando fatti lontani col capo tra le due mani. Dalla sera alla mattina, cercando cose lontane, stanno fissi a frontechina, su qualche bricia di pane, e volendo ricordare, bevono lacrime amare. Oh, non ricordano i morti, i cari, i cari suoi morti. Pane? Sì, pane si chiama, che noi spezziamo con cordi. Ricordate? E tela, adama, ce n'era tanta, ricordi? Queste, queste sono due, come le vostre e le tue, due nostre lacrime amare, cadute nel ricordare. Vero che bella questa poesia. Già, solo a leggerla, probabilmente avete già capito. Anche le nostre slide, per fortuna, ci aiutano a dividere in tre grandi blocchi, insomma, questa poesia. Il primo blocco è quello del ricordo di quelle credenze romagnole, insomma, superstiziose, che venivano inculcate, insomma, ai bambini, sin da piccoli. Nella Romagna, a San Mauro, dove sono nati i pascoli, avevano detto alla sorella di Giovanni, guarda, non lasciare mai stesa la tovaglia. Una volta che hai finito di cenare, devi sparecchiare, devi togliere quella tovaglia, rimettila dove l'hai presa, nella credenza, scusate il gioco di parole. Prima abbiamo usato la parola credenza per indicare la superstizione. Adesso lo usiamo per indicare il mobile, la cucina, dove metter dentro la tovaglia. Non si sa mai, perché appena che... Perché bada, bada che vengono i morti. Ecco, abbiamo detto che vogliamo usare l'evidenziatore e vogliamo evidenziare bada che vengono i morti e i tristi palli di morti. Ecco, adesso faremo un giochetto. Se tutto va bene, se siamo fortunati, nella prossima slide, queste, come vedrete, queste sottolineature più o meno coincideranno con le prossime sottolineature. Ecco, attenzione, quindi, nelle credenze popolari, i morti sono tristi e sono palli, fanno paura, mettono subito paura alla bambina, dicendo, guarda, mi raccomando, sparecchia, perché se rimane lì la tavola, i morti vengono a mangiare. Dovete sapere, infatti, che nelle superstizioni popolari, e soprattutto poi quando ci si riferisce ai primi giorni di novembre, c'era l'idea che venissero i morti, che facessero visita alla casa. E questo poteva anche creare qualche paura, senz'altro. Entrano, ansimano muti, ognuno è tanto mai stanco, è tanto stanco, mai era forzativo. E si fermano seduti la notte intorno a quel bianco, il bianco della tovaglia. Stanno lì sino al domani, col capo fra le due mani, senza che nulla si senta, sotto la lampada spenta. Ecco, stanno lì, se voi lasciate lì la tovaglia, rimangono lì, e si mettono lì di notte, magari mentre voi dormite, col capo tra le due mani, senza che nulla si senta, sotto la lampada spenta. Ecco, anche questa inattività, comunque, dei morti, ci fa venire in mente, invece, la cultura classica, che aveva un po' questa idea dei morti, che sono, che vivono nella tenebra, e che sono comunque senza vita, appunto, e quindi senza, non hanno più il dinamismo che avevano una volta, quando erano vivi. Ecco, ovviamente, è chiaro che questa poesia, però, ci rappresenta soprattutto il grande legame che Giovanni Pascoli sente con i suoi morti, i suoi cari morti. la tematica della tomba, la tematica dei morti, di famiglia, delle tragedie familiari, il tema funebre, abbiamo detto che è centrale nella poetica di Giovanni Pascoli. Volete che lo ripetiamo per l'ultima volta? Cioè, per lui è importantissimo, ci distingue dalle bestie, il fatto, il pensiero della morte. Vi ricordate che l'abbiamo detto più e più volte. E quindi, se i genitori e gli anziani avevano detto alla piccola Maria, guarda, metti via la tovaglia che arrivano i morti, in realtà, quello che forse vorrebbe Pascoli è proprio che arrivassero, è proprio che continuasse ad esserci questo legame con i cari che sono morti. Vediamo se il nostro giochino è riuscito. Guardate bene queste sottolineature gialle? Oh, lì! È riuscito alla grande. Cioè, avete notato che c'è una ripetizione che vengono i morti, ad esempio, viene ripetuto uguale, identico, mentre cambiano i verbi da bada a lascia e gli aggettivi da tristi e pallidi a buoni e poveri. Ecco, dice, è già grande la bambina, adesso è diventata una donna, no? è regge la casa e infatti è lei, Maria, che regge la casa di Castelvecchio, mentre il nostro Giovanni Pascoli va a fare ad esempio lezioni di letteratura prima nei licei e poi all'università di Bologna, comunque sempre con l'idea di ritornare a casa perché la sua casa di Castelvecchio e soprattutto poi la natura, vi ricordate la volta scorsa la poesia Lora di Barga che c'è vicino la solitudine, l'apprezza molto di più che lo stare in mezzo agli alunni durante le sue lezioni di letteratura, preferisce vivere appartato, Pascoli, e allora lei regge la casa e lavora, fa il bucato, la cucina, fa tutto al modo d'allora, continua a perpetuare comunque Maria gli stessi modi di vivere insomma delle generazioni precedenti, pensa a tutto ma non pensa a sparecchiare la mensa, cioè contravvenendo ai suggerimenti degli anziani di famiglia lei non sparecchia la mensa, lei lascia la tavola perché lei insieme a Giovanni coltiva, coltivano insomma loro due, lei coltiva questo questo legame affettivo con i morti come se fossero ancora lì anche lei sogna che possano esserci ancora lì i loro cari morti il padre ammazzato con una fucilata la madre altri fratelli che sono morti vorrebbe che fossero lì lascia lascia che vengano non bada dal monito bada si passa all'invito al permesso lascia che vengano i morti che prima erano rappresentati come tristi e pallidi adesso invece sono buoni e poveri o la notte nera nera di vento d'acqua e di neve lascia che entrino da sera con loro anelito lieve l'abbiamo già visto anche piccolo bucato certe volte però la natura può rappresentare diciamo così la violenza può rappresentare insomma può essere come dire può irrompere nella vita degli uomini e turbarli però questa volta lascia 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 è un'anafora ricordatevi tra i versi 23 e 27 lascia che entri o da sé permette ai morti di arrivare lì la sera con loro anelito lieve con loro ecco abbiamo detto quindi sono quasi hanno quasi perso la loro vita il loro quindi soffio anelito soffio respiro lieve che alla mensa torno torno intorno alla mensa riposino fino a giorno fino a quando arriva il sole perché poi evidentemente quando arriva il sole si devono ritirare i morti i morti vivono e appaiono di notte volevo dire ecco insomma nel senso comunque ripeto la cultura contadina ecco non stiamo parlando di cose così stile horror no 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 stiamo stiamo rifacendoci la cultura contadina per la quale cultura tutto sommato questo fatto che arrivano i morti rientra nel loro mondo nel loro modo di vivere non lo sapete ma voi voi non lo sapete ma addirittura a un tempo si mettevano i dolci l'ultimo giorno di ottobre primi giorni di novembre si mettevano i dolci e si riasciavano perché quando venivano i morti li mangiassero loro il pane dei morti avete mai sentito il pane dei morti ecco sì c'è tutta una serie di riti di credenze di superstizioni eccetera che erano molto vive nella cultura contadina e sappiamo e l'abbiamo detto che i canti di Castelvecchio sono una sorta di romanzo georgico e quindi fanno rivivere questa cultura contadina sono arrivati davvero si riposano lì fino al giorno cercando fatti lontani col capo tra le due mani perché i morti hanno questa caratteristica lo vedremo adesso nella terza parte la terza parte della poesia è quella in cui li vediamo proprio questi morti che cosa fanno la prima cosa ce lo dice già alla fine di questa seconda parte è quella di cercare di ricordare perché hanno perso un po' la memoria questi morti dalla sera questa volta dobbiamo però cancellare queste sottolineature che non ci servono più dalla sera alla mattina cercando cose lontane stanno fissi a fronte china su qualche bricia di pane ecco quindi dicevamo anche loro ho ricordato prima i dolci che vengono fatti per i morti anche loro hanno lì la tovaglia imbandita perché vogliono mangiare ma qualche bricia qualche briciola di pane appena appena cercano ecco qui cercando cose lontane è una sorta di ripetizione di cercando fatti lontani che avevamo visto nella nella strofa precedente quindi questa è una ripetizione stanno fissi a fronte china su qualche briciola di pane volendo ricordare bevono lacrime amare ecco la tristezza la lagrima come vedete è presente due volte in questa ultima parte della poesia è il pianto dei morti che ci lega profondamente a loro perché anche noi piangiamo insieme con loro e qui abbiamo delle delle ripetizioni tra le due mani per esempio che c'era prima nel verso precedente riprendeva il verso numero 14 col capo tra le due mani col capo tra le due mani questo non l'abbiamo sottolineato prima però sappiatelo che c'era questa ripetizione adesso vediamo lacrime e tutta una poesia intessuta di queste ripetizioni sono fatti lontani ecco anche questo cose lontane fatti lontani eccetera le cose più quotidiane il pane il pane si chiama ecco perché loro praticamente non ricordano infatti lo dice non ricordano i morti i cari i cari i suoi morti notate le ripetizioni prima nera nera i cari i cari i pane pane non ricordano come si le definizioni delle parole e quindi cercano di ricordare come si chiama questa cosa qui si chiama pane pane si chiama che noi spezzammo concordi sottolineiamo questo che noi spezzammo concordi perché è un evidente riferimento alla liturgia eucaristica ecco anche la religione cattolica fa parte di quel mondo contadino che Pascoli intende recuperare una volta che è stato c'è stata la tabula rasa della positivismo della scienza del materialismo lui però cerca di recuperare queste cose che disastro la scienza che ci ha tolto per sempre l'incanto della fede dirà e scriverà anche Giovanni Pascoli i morti non ricordavano il nome del pane e tela ecco e tela questa tovaglia è fatta di tela adama cioè in tessuta ricamata volevo dire adama ce n'era tanta ricordi e il disegno è l'ordito a scacchi della tela queste queste sono due ecco ecco la grande comunanza le nostre due lacrime che stanno scendendo dagli occhi sono come le vostre le vostre intende dire dei vivi di te Giovanni e di tua sorella Maria cadute nel ricordare e si compie come vedete alla fine di questa poesia questa perfetta corrispondenza di di amorosi sensi mi verrebbe quasi voglia di dire no ricordando ricordando Foscolo tra i vivi e i morti grazie